Viva amor proprio nel futuro, amo la luna e amo la traduzione, sono un birate ed un biglione, professionista nell'amore, pronta? Sono Cristiano Malgioglio, ciao a tutti ragazzi, ho scelto le note di questa cantauna, perché anche io nella vita sono un birata. E' un signore, oggi mi ho messo pure la benda, la benda come appitto del Dure Life, ho la benda, io sono un birate e un signore, è una signora. Diciamolo. Roberto. Dimmi. Hai mai provato un'esperienza con un uomo? No, e non ci tengo neanche per carità. Roberto. Ragazzi, vi volevo dire che in Italia è passato il progetto del mio varietà del sabato 6. Siamo contenti. Sì, complimenti. Appena finisce quella di Morandi, partiranno le 6 puntate, di stasera paghi Cristiano Malgioglio. Ma da dove ci chiami? Sono a Roma, sono all'aeroporto, a Fiumicina. Sto aspettando l'aereo per Milano, che ho l'imbarco tra 20 minuti. An Italia, ricordiamo ai signori passeggeri diretti a Milano che sull'aereo mobile sarà presente anche il cantante Cristiano Malgioglio. Per le autografie le dediche, potete rivolgervi agli assistenti di volo. L'avete sentito che carino? Sono esagerato. Sono gentili, eh? Oh, porca troia, c'ho del volo alimentare nei dendi. Anzelmo? Anzelmo, vieni via da quartiero Marchese e porti un garetta a denti per piacere. Un garetta a denti. Anzi, lascia stare che ce n'è qua uno tra una sede e l'altra dentro in posa cedera. Eccolo qua, è simi nuovo. Vi ricordiamo che durante il volo sarà proibito l'uso dei caressa denti, del telefonino e di qualsiasi dispositivo elettronico. Grazie per l'attenzione e buon volo. No, no, porca troia. No, non siamo. E mo' come faccio ad andare a Milano? Anzelmo, vedi il numero dell'Alitalia, vedi il numero dell'Alitalia per piacere. Mo' gli faccio vedere io chi sono. Buongiorno. E buongiorno dell'Alitalia. Buongiorno. Buongiorno, senta, io devo prendere l'aereo oggi, no? Ho sentito che a bordo sono proibiti gli stuzzicadenti. Non lo saprei? Non lo sa? No. Perché mi hanno detto questa cosa, no? Siccome io non ne posso assolutamente fare a meno, a me non mi sembra proprio una cosa inzenzata. Tra l'altro mi propongo anche di parlare in televisione, insomma. Io sono Cristiano Malgiuglio, faccio un programma sulla Rai, sabato mattina, che si chiama C'è la saga Cristiano Malgiuglio. E il mio nuovo programma parte tra due settimane, un po', un programma tra la denugia e il sociale. No, io non so se lei cosa ne pensa, che danno può fare un carezzatente di legno, no? Faccio un attimo, un attimo. Pronto? Pronto? Metti l'attesa... Madonna che fastidio! Almeno un'attesa con una canzone di Cristiano Malgiuglio, no? Con stai grosse, schifose, Steven Slacks qua. Pronto? Pronto, sì, ma guardi, non mi risulta niente. Ah, non le risulta? A me non risulta niente. Meno mai. E' una compagnia aerea. Va bene. No, perché io ho un problema sempre con i denti, mi rimane il bolo alimentare nei denti, no? Quindi se non dovesse essere possibile con i carezzatenti, insomma, mi porto un drabano, perché... Ha capito? Mi è uscito il grasso di vostra terra dal dente. Va bene, sono apposta, noi ci vediamo sull'aereo oggi, eh? Arrivederci. Così? Arrivederci, grazie. Buongiorno, sono Ambra. Buongiorno, Ambra. Senta, sono Cristiano Malgiuglio. Prima ho parlato con un suo collega maschio, uomo. Me lo può passare per contestire? Per che cosa avevo... Avevo parlato per quel problema dello stuzzicadenti da portare in aereo o meno. Si può passare. Aspetti, non vedete che un chi può saber parlare? Un uomo era. Abbiamo quattro di voi. Ah, ok. Anzi, cifre. Fortunati voi. Ragiontolo. Va bene. Pronto? Si, però. E' fuori ufficio. Vabbè, comunque volevo ringraziarle per la sua disponibilità. Signorina, anche lei, come si chiama lei di nome? Ambra. Ambra. Guarda, allora, se guarderai uno tra due sabati, la saluto nel mio nuovo programma. Stasera paga Cristiano Malgiuglio. Non so se si ricorda di me, io sono Cristiano Malgiuglio, il cantante, quello degli anni 70-80, ho fatto anche uno mattina estate, quest'estate. Non si offendamme, io ho 23 anni, non ho molti ricordi. Eh, non me lo prenda com'è. No, no, non sai cosa sei persa. Non ho ragione. Comunque, Ambra, Ambra ci dedico una canzone. Troppo gentile. Un'altra Ambra, un altro amore. Un'altra Ambra nel mio cuore. Un'altra Ambra. Arrivederla, Ambra. Va bene, grazie mille. Arrivederci da Cristiano Malgiuglio. Arrivederci per non piangere. Arrivederci, Ambra. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.